Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde in questo video vi farò vedere due nuovissimi glitch uno per salvare i completi da guardia mentre l'altro per salvare i completi da boss, da CEO per entrambi i glitch avrete bisogno di un amico il primo glitch che vi mostro vi mostrerò come salvare i completi da guardia per salvare i completi da guardia sia voi che il vostro amico dovrete recarvi all'interno dell'appartamento del giocatore che sta eseguendo i glitch a questo punto il vostro amico l'amico che vi aiuta dovrà diventare CEO e dovrà invitarvi nella sua associazione poiché starete eseguendo il glitch dovrete aprire il telefono andare sull'applicazione boss se cuore serve e accettare l'invito per entrare all'organizzazione del vostro amico una volta fatto ciò il vostro amico dovrà aprire e meno interazione dovrà andare nell'applicazione boss se cuore serve gestione, stile stile del CEO e dovrà continuare a cambiare i completi del CEO del boss fino a quando voi che sarete la guardia non indosserete il completo della guardia che volete salvare quando il vostro personaggio indosserà il completo della guardia che volete salvare dovrete entrare nel bagno del vostro appartamento dovrete avvicinarvi alla doccia e quando sarete davanti alla doccia in alto a sinistra ci dovrà essere l'opzione premi freccia destra per entrare nella doccia a questo punto il vostro amico dovrà aprire il menu interazione dovrà andare sull'applicazione boss se cuore serve gestisci e dovrà premere una volta X sull'opzione congeda una volta fatto ciò al vostro amico comparirà una schermata nera con scritto sei sicuro di voler congedare questo giocatore congedando questo giocatore il giocatore non farà più parte della tua organizzazione a questo punto sia voi che il vostro amico dovrete essere sintonizzati voi che sarete davanti alla doccia dovrete premere la freccia destra per entrare nella doccia e nello stesso tempo il vostro amico dovrà premere X per confermare quella schermata nera per concedarvi dall'organizzazione mi raccomando dovrete essere sintonizzati e premere correttamente i tasti nello stesso tempo a questo punto il personaggio entrerà nella doccia quando sarete nella doccia dovrete premere triangolo per uscire dalla doccia e se il glitch sarà uscito correttamente quando il personaggio uscirà dalla doccia il personaggio indosserà il completo la guardia senza essere guardia in quanto il vostro amico vi ha congedato dalla sua organizzazione a questo punto potrete salvare il completo tra i completi salvati e quando avrete salvato il completo tra i completi salvati potrete cambiare il completo potrete cambiare la sessione potrete riavviare il gioco il completo rimarrà sempre tra i completi salvati non scomparirà passando al secondo glitch glitch per salvare i completi da boss anche in questo glitch avrete bisogno di un amico dovrete essere entrambi all'interno dell'appartamento del giocatore che sta eseguendo il glitch entrambi dovrete diventare CEO perciò entrambi dovrete avere due organizzazioni quando sarete entrambi CEO il vostro amico ovvero l'amico che vi aiuta dovrà invitarvi nella sua organizzazione quando avrete ricevuto l'invito del vostro amico per entrare alla sua organizzazione voi dovrete aprire e meno interazione dovrete andare sull'applicazione CEO Securo Serve gestione stile stile del CEO e a questo punto dovrete indossare il completo del CEO che volete salvare una volta fatto ciò dovrete entrare nel bagno dell'appartamento e dovrete avvicinarvi davanti alla doccia stando davanti alla doccia in alto a sinistra dovrà esserci l'opzione premi freccia destra per entrare nella doccia se vedrete questa opzione dovrete aprire il telefono dovrete andare nell'applicazione Boss Securo Serve e a questo punto dovrete selezionare e accettare l'invito del vostro amico per entrare alla sua organizzazione e subito dopo dovrete premere la freccia destra per entrare nella doccia perciò dovrete premere due volte X per accettare l'invito del vostro amico e subito la freccia destra per entrare all'interno della doccia e ripeto che dovrete essere veramente molto molto veloci a questo punto il personaggio sarà all'interno della doccia dovrete premere triangolo per uscire dalla doccia quando il personaggio sarà uscito dalla doccia se il glitch sarà uscito correttamente il personaggio indosserà il completo la Boss Barra CEO che avete indossato prima a questo punto avrete completato il glitch potrete salvare il completo tra i completi salvati e dopo aver salvato il completo tra i completi salvati potrete cambiare i completi cambiare sessione potrete riavviare il gioco il completo rimarrà sempre tra i completi salvati non scomparirà e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video e da Orcover se tu non ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti